Ho detto che non voleva essere un peso e che a fine stagione si vedrà. È cambiato qualcosa tra lei o la squadra o la società o la piazza? Non è una contraddizione di essere ambizioso, di voler vincere, di aver detto quello che ho detto dopo la partita contro la Sondoria. Io volevo rassicurare e tranquillizzare questa piazza e la gente da qui. Io non sarò mai un peso perché, come ho detto, ho imparato a enamorarmi di questa squadra, di questa Roma. Il giorno dove sentirò che non sono più utile o non sono più una plusvalenza al club per ottenere vittorie, risultati, trofei, perché sono venuto per questo, ma il secondo dopo mi farò da parte. Ma finché i giocatori mi seguono, finché le mie parole sono aspettate da loro, io mi devo di assecondare il mio sogno di vincere qui, perché sono venuto per questa cosa e io voglio vincere qui dopo aver sognato di farlo. con questa squadra, in questa piazza che forse è la più difficile del mondo, io penso che è possibile ancora vincere, è questo che ho parlato di questa cosa, io sono inflessibile tutte le cose, ma soprattutto su me stesso, questa è la cosa importante per il futuro, che è la fine della stagione, dopo sui conti, ogni anno a fine anno facciamo i conti e allora faremo i conti a fine stagione, come di solito. Grazie. Grazie. Grazie.